Musica Torrenti e sondati nel Reggino e frane nel Bibonese, le piogge intense delle ultime ore hanno provocato lo straripamento di fiumi e torrenti, mentre altri sono a rischio, sotto osservazione la zona più colpita al momento è quella del Reggino, straripati i fiumi Bonamico e La Verdea. Estorsioni con metodi mafiosi durante il lockdown con l'operazione denominata Atto Finale Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza di Brescia hanno arrestato 15 persone contigue alla criminalità organizzata di stampo andranghetista. Il vertice del gruppo sarebbe il calabrese Vincenzo Facchineri, membro di una storica andrina della provincia di Reggio Calabria. Traffico di rifiuti dalla Campania, sequestrato Capannone alla Mezzia Terme, gli scarti provenienti da 105 impianti industriali. Arrivavano anche in Calabria coinvolta una società del Catanzarese, 14 gli indagati. Processo Bergamini in aula Isabella Interno, iniziato stamane in corte d'assise a Cosenza, il processo per la morte dell'ex calciatore. E la conclusione della terza inchiesta, aperta sulla morte di Bergamini, è avviata dal magistrato Eugenio Facciolla, quando era ancora procuratore capo a Castrovillari. Buonasera, nuova edizione del nostro telegiornale in apertura. Lo avete sentito dai titoli del sommario le difficili condizioni meteorologiche vissute dalla nostra regione nel corso delle ultime ore. Le piogge intense hanno infatti provocato lo stralipamento di fiumi e torrenti, mentre per altri c'è una costante osservazione, un'attività di monitoraggio. Questa è la situazione delineata per la Calabria e della protezione civile regionale. La zona più colpita al momento è quella della provincia di Reggio Calabria. Straripari in particolare sono stati il fiume Bonamico in località Pace a San Luca e il torrente La Verdea a ridosso della strada statale 106 tra i comuni di Bianco ed Africo. Sotto osservazione, dicevamo, altri corsi d'acqua. Una caduta massi si è verificata sull'ex strada provinciale Zaccanopoli-Pargheria in provincia di Bibbo-Valenzia. Nelle altre province pioggia forte, vento, ma al momento non ci sono problematiche particolari. Però le condizioni meteo saranno difficili anche per la giornata di domani, con un'allerta che naturalmente ha diversi colori, ma l'allerta rossa rimane per la provincia di Reggio Calabria e per il versante ionico della provincia di Crotone di Catanzaro. Le altre zone della Calabria invece sono colorate di arancione e di giallo. Noi ora andiamo avanti, passiamo alla cronaca con l'operazione atto finale che stamane ha portato in carcere 12 persone, ma 14 sono le persone complessivamente coinvolte. I reati contestati riguardano presunte estorsioni portate a compimento in Lombardia, Marche e Calabria durante il periodo del lockdown da persone ritenute contigue all'Andrangheta. Al vertice di questa organizzazione criminale, il calabrese Vincenzo Facchineri, membro di una storica ndrina della provincia di Reggio Calabria. 15 arresti eseguiti nella provincia di Brescia, Milano, Reggio Calabria, Cremona e Ascoli Piceno. L'operazione denominata atto finale è portata a termine stamane da uomini della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Brescia, coordinati dalla Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia, ha riguardato persone ritenute dagli inquirenti contigue ed inserite in contesti di criminalità organizzata di stampo andranghetista. I reati contestati sono quelli di usura e distorsione commessi con metodo mafioso. L'attività degli investigatori ha permesso di documentare come gli indagati, nonostante il periodo di lockdown, abbiano posto in essere condotte intimidatorie e distorsive, con accordi e pagamenti usurari accompagnati da pressioni e pretese economiche agli imprenditori. Documentati inoltre gli accordi per la spartizione degli illeciti guadagni, le richieste di protezione criminale e gravi situazioni di esposizione a rischio per l'incolumità individuale. Proseguiamo con la corona che con un'altra operazione portata a compimento fuori dai confini regionali ma che riguarda comunque la Calabria. I Carabinieri del Noe di Salerno hanno infatti documentato un traffico di rifiuti dalla Campania. Gli scarti di ben 105 impianti industriali arrivavano anche in Calabria. 14 gli indagati, coinvolta una società della provincia di Catanzaro, sequestrato un capannone di circa 1000 metri quadri alla mezza terme. 14 indagati, 5 persone colpite da una misura interdittiva, il sequestro di un impianto di recupero rifiuti, di 5 autocarri e di 430 mila euro. Sono questi i numeri dell'operazione portata a compimento stamane dai Carabinieri del Noe di Salerno che hanno accertato un vasto traffico di rifiuti, provincia. I rifiuti speciali, gestiti illecitamente per oltre 2600 tonnellate, erano provenienti da 105 impianti industriali della Campania. Le indagini hanno consentito di individuare e sequestrare, nel comune di la mezza terme, un capannone di circa 1000 metri quadri ricolmo di rifiuti provenienti dalle attività del traffico illecito. Nell'inchiesta risultano indagate 14 persone, tra responsabili e dipendenti di società di recupero, trasporto ed intermediazione di rifiuti, ritenute responsabili di attività organizzate per il traffico illecito. Coinvolte anche 7 società che gestiscono impianti nelle province di Salerno, Napoli, Caserta, Verona e Catanzaro. Ed un incidente mortale avvenuto sulla strada statale 107 nei pressi del Bibio Cotronei, in provincia di Corotone. L'impatto è avvenuto tra una Smart ed un autocarro che ha terminato la propria corsa al di là della sede stradale. Il conducente della vettura, in seguito all'impatto, è deceduto sul colpo, mentre il conducente dell'autocarro è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasportato in ospedale. Sul posto sono giunti il magistrato di turno, gli agenti della polizia, i vigili del fuoco per il recupero della salma e la messa in sicurezza dei veicoli e del sito stradale. Accertamenti sono in corso per stabilire l'esatta dinamica del sinistro. Andiamo a Cosenza, ora dove stamane è iniziato il processo per la morte di Denis Bergamini, unica imputata, l'ex fidanzata del calciatore Isabella Internò, accusata di essere responsabile in concorso con ignoti dell'omicidio del calciatore. La prima udienza del processo pergamini in corte d'assisi a Cosenza si apre con l'arrivo da un'entrata secondaria di Isabella Internò, unica imputata e accusata di essere responsabile in concorso con ignoti dell'omicidio del calciatore. La Internò evita le domande dei giornalisti e siede accanto al suo avvocato illegale, Angelo Pugliese. A pochi metri di distanza segue l'udienza Denis Dallevacche, nipote di Denis Bergamini. E quindi rabbia perché, ripeto, era un caso semplicissimo dove ci si poteva arrivare tranquillamente il giorno dopo e invece siamo qui dopo 30 anni, per fortuna, con un cadavere che dopo 30 anni ha parlato. L'avvocato Pugliese avanza richiesta di nullità della riapertura del procedimento. Dopo la Camera di Consiglio il giudice Lucente respinge le eccezioni difensive. Non ho mai pensato ad una chiusura immediata del processo, confesserà a fine udienza l'avvocato Anselmo, che difende la famiglia Bergamini. La verità la conosciamo tutti, però ancora qui dentro non è entrata, adesso finalmente faremo questo processo. Quello sulla morte dell'ex calciatore del Cosenza è un procedimento che giunge alla fase dibattimentale dopo 32 anni e per l'avvocato Anselmo presenta numerose analogie, con il caso Cucchi, un riferimento che in aula ha scatenato l'immediata reazione della difesa. Nel processo Cucchi avevamo trovato un radiologo di fama internazionale, il professor Masciocchi che ci ha fatto scoprire, interpellato da noi, che la famosa vertebra di L3 era stata tagliata in due e la parte veramente fratturata che invece veniva legata dai periti della Corte d'Assisi di Roma non era stata sottoposta ad esami, perché mancava ad esami radiologici. E' diventato un test della Procura, così come Fineschi è oggi diventato un test della Procura. Il fatto è meno accatante, meno terribile di Cucchi ovviamente, perché qui il problema da buttista medico-legale è che la verità si è nascosta all'inizio. E non sono 32 anni di attesa, come nel caso che abbiamo appena ascoltato, quello della morte dell'ex calciatore Denis Bergamini, ma tanto tempo è passato in attesa di verità e giustizia anche per Filippo Ceravolo, il 19enne che ha perso la vita il 25 ottobre del 2012 in un agguato che non era destinato a lui. Un delitto tuttora irrisolto e rispetto al quale il padre, il papà di Filippo Ceravolo continua da nove anni a chiedere verità e giustizia. Sentiamo. Io do la pelle ai ragazzi, ai genitori, guardatevi i vostri figli, io non ho mio figlio a casa. Io se avevo mio figlio a casa, più bene di me non stava nessuno, perciò devono uscire, sì ma devono stare ben calmi, non si devono bistricciare, devono dare una cultura, ci dobbiamo prendere il territorio, il territorio ce lo dobbiamo prendere come? Cominciare da loro, sono loro il futuro. Io mi appello su tutte le cose, ma io non ho la bacchetta magica, io per me farei tutte le cose per i ragazzi. Come sapete chiedo la giustizia da nove anni, non ho avuto giustizia, ci credo, spero che stanno lavorando e spero di dare una risposta nel territorio dove ci sono stati tanti, tanti omicidi e purtroppo quello che interessa l'omicidio di Filippo Ceravolo, che purtroppo l'omicidio non c'è stato, gli arresti fino adesso, nessun ferme, e questo è un fatto grave, che purtroppo la gente tutta qua stasera mi stanno chiedendo sempre la stessa cosa e mi auguro ai ragazzi di cambiare e prenderci le piazze, la piazza di Vibo. Il tenente colonnello Raffaele Giovinazzo, ufficiale a capo del nuovo reparto territoriale dei carabinieri di Corigliano Rossano, costituito lo scorso 13 ottobre, ha incontrato i giornalisti. Sentiamo. È sicuramente una realtà impegnativa, sia da un punto di vista lavorativo che da un punto di vista dell'impegno che ci dobbiamo mettere. Non ho avuto impressioni negative, anzi è tutt'altro, visto che la gente è molto aperta, è molto disponibile. Questo nuovo modello organizzativo è un modello organizzativo molto più, diciamo, tra virgolette snello rispetto ad altri. Chiaramente c'è stata una riorganizzazione generale, non si può fare un paragone rispetto al passato perché noi abbiamo perso delle stazioni che sono passate sotto la compagnia di Castanalo Ionio. Per cui c'è sicuramente un nuovo dispositivo, possiamo dire così, che ha conservato i numeri della precedente organizzazione, anzi rafforzati nella componente investigativa. Ovviamente questa prima settimana c'è stata soprattutto una presa di contatto per conoscere il territorio e soprattutto per conoscere il personale perché devo dire che ho trovato del personale molto motivato, molto soddisfatto di operare nell'ambito del reparto territoriale e sono sicuro che i risultati non mancheranno. Cambiamo argomento, un'economia più giusta a partire dai piccoli borghi e questo è il senso del piccolo festival della microfinanza conclusosi a Fiumefreddo Bruzio in provincia di Cosenza. Il festival è stato promosso dall'Istituto di Studi e Ricerche Sociali Armando Gorrieri e realizzato con il supporto dell'ente nazionale per la microfinanza, la fondazione Carical e la BCC Mediocrati con considerazioni ed approfondimenti che hanno riguardato anche l'impiego delle notevoli, cospicue risorse che arriveranno. Sentiamo. La caratteristica di questo nostro paese, dell'Italia, è che quasi ogni cosa che andrebbe fatta da qualche parte già la stiamo facendo e le imprese sociali, il settore dell'organizzazione di cittadinanza attiva, me lo lasci dire così, è all'avanguardia di queste. Cosa non riusciamo a fare? Non riusciamo a trasformarle in sistema. Non trasformandoli in sistema, il sistema è un passo indietro, è conservatore, cioè rischia di far arrivare i soldi adesso che ce ne sono tanti sui territori con una modalità antica. E allora che cosa bisogna fare per cercare di influenzarlo? Bisogna evitare che i soldi arrivino come gocce, separate le une delle altre, magari nella stessa città dove fai un intervento sui bambini, un intervento di trasferimento tecnologico, un intervento sulla cultura, un intervento sugli anziani e i quattro interventi sono disintegrati, sono separati fra di loro. No, bisogna rovesciare, il territorio deve avere e le organizzazioni di cittadinanza, le imprese sociali, insieme alle imprese private e insieme quando hanno un referente pubblico di qualità, un sindaco, un amministratore comunale, un consigliere o una consigliera comunale forte. Avere il coraggio di osare e di avere una visione di quel territorio allunga, questo è il salto da fare. Andiamo alla mezza terme dove i giovani del Partito Democratico hanno ragionato sulla passata campagna elettorale regionale, mettendo a fuoco le cose che sono andate bene e quelle che evidentemente non sono andate per il verso giusto. Con i giovani del Partito Democratico che rilanciano la necessità di un investimento per il centro-sinistra per quanto riguarda l'utilizzo dei social media e poi sulla necessità di investire sulle risorse del partito. Sentiamo. La destra utilizza tutti i social, dai più conosciuti come Facebook agli più sconosciuti come Reddit, che è un social dove la destra va forte. Quindi io penso che noi dobbiamo essere in grado di metterci in tutti questi ambienti e dobbiamo farlo però portando le nostre idee senza, come abbiamo fatto fino ad ora, tentare di inseguire la destra. Quindi facciamo 100 post opportunistici o comunque pieni di allammismo. Parte dall'auspicio di un più corretto e sistematico uso dei social media, l'analisi che alla mezzia terme i giovani del Partito Democratico hanno fatto di una campagna elettorale con poche luce e molte ombre. Siamo poco coinvolti, dicono i giovani esponenti DEM, a differenza di quanto accade in altri contesti territoriali. Il partito che immaginiamo è più aperto e più inclusivo, più al passo con i tempi e con organismi democraticamente eletti e magari capace di puntare sulle risorse che ha il proprio interno. Il Partito Democratico ci è riuscito anzitutto perché ha candidato due persone che sono, come dire, sono due persone che hanno anche loro le spalle larghe, bisogna dire. Però il Partito Democratico e i giovani democratici li hanno aiutati e sono convinto che però partendo da questi esempi, penso al consigliere Mammoliti che è comunque partito dall'ACGL, è partito conoscendo la difesa dei laboratori oppure ad Alecci che parte da sindaco, penso che prendendo che sono di politica interna, di crescita interna, si possa andare avanti. Ma andando a rincorrere sempre all'esterno non si può andare avanti. E loro due sono gli esempi importanti di quello che noi dovremmo portare avanti. Quindi crescita all'interno e non rincorrere all'esterno. Ci spostiamo ora a Catanzaro dove domani si terrà una staffetta particolare, quella per il milite ignoto. Proviamo a capire di cosa si tratta. Questa iniziativa nasce nell'ambito del comando delle forze operative sud di Napoli e vuole in qualche maniera celebrare, ricordare, commemorare quello che accadde cento anni fa, cioè la traslazione della salma del milite ignoto nel sacello che è posto all'altare della patria. Questo avvenne esattamente nel 4 di novembre del 1921, sono trascorsi cento anni e si vuole in qualche maniera ricordarlo. Per ricordarlo, per celebrarlo, si è pensato di realizzare una staffetta continuativa di 24 ore nella quale correranno militari del comando militare esercito, militari del secondo reggimento aviazione dell'esercito di La Mezzia Terme e personale dell'associazione Run for Catanzaro. Durerà 24 ore, inizierà domani mattina, terminerà mercoledì mattina ed è un modo in qualche maniera per rendere omaggio e per dire grazie a quei ragazzi che caddero combattendo nel corso del primo conflitto mondiale e di cui il nome in molti casi non fu noto. Era questo, di fatto, l'ultimo argomento passato in rassegna per questa nostra edizione del telegiornale, ma c'è ancora spazio per una notizia che riguarda la nostra categoria. Giuseppe Soluri è stato infatti confermato per il prossimo biennio alla guida dell'Ordine dei giornalisti della Calabria, alla fine della tornata elettorale che si è conclusa domenica al Presidente Soluri, l'augurio di buon lavoro da parte della nostra redazione. Ora è veramente tutto, mi fermo qui, grazie come al solito per il cortese ascolto, la raccomandazione è quella solita, non cambiate canale. Grazie a tutti.